Qual è il futuro degli stabilimenti balneari partendo da due temi caldi, la direttiva Bolkestein e le ordinanze dei sindaci? Questi gli aspetti trattati nella conferenza stampa tenutasi nella sede di CNA alla presenza del Presidente Nazionale CNA Balneatori. Direttiva Bolkestein, qual è la situazione? Terremo la manifestazione unitaria a tutti i sindacati del settore balneare a Roma a metà aprile per chiedere forte la deroga alla direttiva servizi e vogliamo che così forte la chieda anche il Governo, così come ci siamo espressi in un incontro il 23 febbraio. Ma vogliamo maggiore determinazione per tutelare questo settore che ha rappresentato e rappresenta un forte sostegno all'economia nazionale. Da parte proprio di chi vive e lavora all'interno degli stabilimenti balneari, qual è l'umore, la situazione? Di preoccupazione, c'è l'incertezza sul futuro e c'è anche l'incertezza nel fare investimenti e questo è un male per l'economia nazionale e regionale. È un settore che è dato anche sotto l'aspetto occupazionale. Bisogna capire che è un unicum in tutto il panorama europeo, solo l'Italia dà tanto con 30.000 concessioni dislocate su tutto l'arco della penisola. E questa cosa deve essere tutelata, difesa in Europa e va ridata certezza a queste piccole e medie imprese del turismo italiano. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, sicuramente il lavoro degli stabilimenti balneari e del sistema turistico sarà importantissimo. Anche in un momento di grande difficoltà come questo, la tenuta occupazionale che garantiscono i nostri stabilimenti balneari, anche i numeri dell'anno scorso l'hanno dimostrato e anche le prospettive per quest'anno sono di tenuta del sistema turistico regionale. Questo garantisce sicuramente la qualità della vita in Emilia-Romagna, anche perché grazie al turismo che appunto negli ultimi anni, vista anche la situazione economica, ha visto sia il ritorno degli italiani anche sulle spiagge italiane, perché comunque si è riapprezzata l'offerta turistica anche dei nostri territori e comunque il mantenimento dei livelli di turismo per quanto riguarda invece i turisti stranieri che continuano comunque a venire in Italia. Sicuramente da questo punto di vista rimane fondamentale e di grandissima importanza il lavoro che viene fatto dagli stabilimenti balneari della nostra regione in termini di investimenti, continuo rinnovo e attualità dell'offerta e dei servizi che vengono dati sulle nostre spiagge. Uno dei temi caldi, caldissimi, delle ultime ore sono le novità rispetto alle ordinanze. Le ordinanze del sindaco relative ovviamente alla stagione balneare. Qual è la situazione dal punto di vista degli operatori? Noi pensiamo che sia giusto che ci siano delle ordinanze che normano delle realtà che sono particolari. Chiaro noi pensiamo ai comuni di Cervia e di Ravenna in particolare che sono quelli balneari ed è evidente che una regola che è quella della liberalizzazione totale porterebbe a difficoltà a gestire una situazione che è molto delicata. Quindi è giusto che ci si trovi, che le amministrazioni comichino le associazioni, comichino i soggetti che lavorano, che li vivono e che in qualche maniera arrivino a normare le cose. Noi pensiamo che si debba trovare un giusto equilibrio e forse qualche passo in più si può fare ancora per andare più verso il cliente, verso il turista, non ho detto al primo che passa. Ecco, è importante spostare di più l'attenzione sul turista, sia esso giovane, sia la famiglia, tutti. Abbiamo bisogno di tutte le nicchie di turismo e quindi abbiamo bisogno di avere realtà anche balneari che a questo turismo e a questi turismi parlano. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci